Noi siamo del Movimento 5 Stelle, al di là di quello che voi votate, reggiti... No, 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 non ce ne frega niente, però due cose. Uno, abbiamo costituito un fondo dai nostri stipendi al sostegno delle imprese, pure voi potete accedere facendo domanda, noi abbiamo messo i nostri stipendi dei soldi. L'altra domanda che vi facciamo, al di là di quello che votate, siete d'accordo sul fatto che i politici e i parlamentari guadagnino troppo e 14 mila euro al mese sono eccessivi? Tutti a casa, tutti a casa, ok, solo questo. Allora, se votate altro, dite a coloro che votate di tagliarsi lo stipendio, perché grazie al taglio del stipendio si possono aprire delle aziende in Italia. Scusate il disturbo. Ma l'onesto, che pur di mantenere quel posto di lavoro, accetta di sedersi accanto all'altro. Questo è il dramma dell'Italia. Troppo. Colui che dice, sì, sarebbe giusto tagliarsi lo stipendio come fanno quelli del movimento, però se lo faccio io poi magari mi metto contro il partito. Sarebbe. Questo è il meccanismo. Piacere, Alessandro. No, qua nessuna domanda. Vi vogliamo solo dire che ci siamo tagliati lo stipendio e che c'è un fondo aperto. Come voi siete tagliati? A me mi hanno dato male. Lo so. Comunque, qua ci stanno le informazioni per accedere a questo fondo. Tutto qua. Al di là di quello che tu voti. Secondo me è normale che un politico parlamentare prenda quanto a 10 mila euro al mese? Non è campagna elettorale. Non è campagna elettorale. Noi siamo solo venuti a Rione Testaccio a fare un'attività per comunicare che è stato costituito un fondo a sostegno delle piccole aziende con i nostri soldi. Noi ci siamo tagliati lo stipendio e questi soldi sono a disposizione. Noi ci siamo tagliati.